Io dormivo, comunque prima che sentivo chiacchiere da qua da là, aspettavo, dico fammi sentire chi è, che vogliono, queste cose qua, e invece forse erano loro. Comunque hanno rotti i vetri del bagno, poi c'è il balcone, i vetri tutti rotti, mi hanno portato alla scala, sono scesa con la scala, mi hanno aiutato loro perché se no non scendevo che avevo paura. Ma le fiamme già, insomma, erano arrivate anche sopra? Le fiamme erano qua, dicevano signora forse ci sono le fiamme, ci sono le fiamme, dico ma dove sono queste fiamme? Quelle uscivano da qua. Il fumo era già arrivato sopra? Sì, ardeva tutto, il fumo io ero dietro, non lo vedevo perché usciva da qua. Signora, importante oggi è poterlo raccontare? Sì, sicuramente, sicuramente, e sono contenta che non abbiamo fatto niente, che vi devo dire, che se poteva succedere di peggio, no? Bambini e tutto quanto. Io quando ho visto che avevano le facce, mi sono fidati al carabiniero. Sì, sì, nici nessuno. Grazie.